Torta di marzo al cioccolato e pere Se volete stupire chiamate con un dolce dal sapore unico, la torta di marzo al cioccolato e pere è senza dubbio la scelta per voi. Una torta che saprà conquistare grandi e piccini, grazie al gusto intenso del cioccolato abbinato alla freschezza delle pere. Facile da preparare e soprattutto veloce, la torta di marzo al cioccolato e pere vi stupirà con la sua bontà e la sua croccantezza. Ecco come preparare questa deliziosa torta di marzo al cioccolato e pere. In una ciotola mescolate per bene 120 grammi di farina, 80 grammi di zucchero, un cucchiaino di lievito e un pizzico di sale. Aggiungete 2 uova e 125 grammi di burro fuso. Impastate per bene fino a quando non si sarà formata una pasta omogenea. Unite 100 grammi di cioccolato fondente tritato grossolanamente e mescolate. Versate il composto in una tortiera ingurrata e infarinata. Aggiungete le fettine di pere, 2 o 3, dipende dalle dimensioni della vostra teglia, infornate per circa 25-30 minuti a 180 gradi. Una volta pronta, estraete la torta dal forno e fatela raffreddare. La vostra torta di marzo al cioccolato e pere è pronta per essere gustata.